Oggi avvieremo una serie di iniziative che hanno come protagonista la band pop ufficiale dell'Ateneo Gabriele D'Annunzio, la UDA Cult Band. Sono eventi che organizzeremo in cui cercheremo di coniugare la storia della musica contemporanea con nozioni accademiche di storia contemporanea, di sociologia, di antropologia del mondo contemporaneo. Quindi sono iniziative che sono mirate a richiamare l'attenzione di un pubblico soprattutto studentesco perché forniamo delle nozioni interessanti ma anche mantenendo un livello alto di informazione di tipo accademico. Grazie a tutti.